Umbria Equitazione è storia e crescita dell'equitazione italiana ed europea. Il marchio del gruppo Umbro, diretto da Riccardo Volpi e famiglia, è cresciuto esponenzialmente con la diffusione dell'equitazione, fornendo ad appassionati e sportivi i migliori prodotti della tradizione manifatturiera del Made in Italy, con lo sguardo verso il futuro, anticipando mode e tendenze e producendo articoli tecnologicamente all'avanguardia. Le linee Umbria Equitazione vestono il binomio ed accompagnano i migliori cavalieri internazionali nelle discipline sportive dell'equitazione, dal mondo western a quello del salto ostacoli, passando dai grandi viaggi ai trekking di ogni fine settimana. Le grandi marche mondiale si appoggiano ad Umbria Equitazione per commercializzare i loro prodotti nel vecchio continente, grazie anche ad una rete di punti vendita capillare e diffusa in tutto il territorio, ma soprattutto alla serietà ventennale dimostrata dallo sviluppo che il brand Umbria Equitazione ha avuto con scelte sempre innovative e di qualità. Il marchio Umbria Equitazione è il punto di riferimento dei maggiori nomi legati al cavallo Billy Cook, Podium, Lamiselle, Wrangler, Big Horn, Shoes Brothers, Professional Choice. Un posto di tutto rispetto lo dedica alla Delgrange, ritenuta a ragione la migliore sella professionale da salto ostacoli. Delgrange produce selle con pellani di qualità massima, cucite a mano, con rigorosi controlli che le permettono da sempre di stare sul podio più in alto dell'agonismo mondiale. Stesso discorso vale per la ditta spagnola Zaldi, che parallelamente ad Umbria Equitazione è cresciuta con selle e finimenti di pregio, e nella migliore tradizione della cuoieria iberica Zaldi. Si lega in Italia solo con Umbria Equitazione. Umbria Equitazione nasce vent'anni fa, dall'intuizione di Riccardo Volpi verso il grande espandersi della passione per i cavalli. La famiglia Volpi, allevatori di cavalli e bovini, è sempre stata legata al territorio, alla natura e alla produzione di pellame per le cuoierie. Attualmente, in seguito all'ampliamento, il gruppo Umbria Equitazione conta su strutture moderne che si sviluppano su una superficie di ben 7000 metri quadrati per offrire una vasta scelta di articoli. La disponibilità dei prodotti consente di effettuare consegne in tutta Italia e in Europa entro 24 o 48 ore. Un numero sempre maggiore di negozianti sceglie Umbria Equitazione non solo per la qualità dei prodotti ma anche per il prezzo onesto e molto competitivo per far sì che la passione verso il cavallo e verso le attività a lui collegate siano accessibili a tutti. Qualità e convenienza sono il biglietto da visita della casa Umbra. Tecnologie e avanguardie si uniscono alla lavorazione artigianale dei pellami e dei tessuti. Con Umbria Equitazione la tradizione si lega al moderno e le linee per i vari tipi di monta sono sempre studiate per dare il massimo risultato nell'uso quotidiano. Umbria Equitazione di San Giustino Umbro vi aspetta nei punti vendita qualificati. La grande voglia di andare a cavallo e fare equitazione di classe in maniera vantaggiosa, duratura e continuativa nel tempo. Grazie a tutti.